Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale AC News. Da venerdì 30 giugno verrà sospesa Terra Amara per i mesi estivi. Luglio e agosto, ma ci farà compagnia una nuova serie turca, My Home, My Destiny, con protagonista Demet Odmir, già apparsa in tv italiana con dei dreamer Le Alin del Sogno. Dovrebbe iniziare da lunedì 3 luglio, ma seguiranno aggiornamenti. Ma ora vi lascio una piccola trama di questa nuova serie. Deinep Gozku è una ragazza nata da una famiglia povera, con poche opportunità nella vita. Suo padre è un alcolizzato violento, sua madre è debole e suo fratello, maggiore, muore per mancanza di cure mediche. Ma la sua fortuna cambia improvvisamente quando la famiglia che impiega sua madre come domestica si offre di adottare la ragazza. I suoi genitori sono d'accordo nella speranza di dare alla figlia una vita migliore. Innocente Deinep diventa una giovane donna intelligente, istruita e bella, fidanzata per essere sposata con un uomo da sogno dell'alta società. Tuttavia, la sua vita prende una svolta inaspettata quando la madre biologica riappare, cercando di riprendere il controllo della vita di sua figlia e riportarla alla casa in cui è nata. Cosa riserverà il destino a Deinep? Sarà in grado di superare le insidie del suo passato e costruire il futuro che desidera? E come affronterà il difficile dilemma di dover scegliere tra la famiglia che l'ha adottata e la madre biologica che rivendica i suoi diritti? Non potete perdervi nemmeno un episodio di My Home, My Destiny per scoprire tutti gli avvincenti colpi di scena, le emozioni travolgenti e le difficili scelte che Deinep dovrà affrontare lungo il suo percorso. Vi invito a seguirmi in questa straordinaria serie che vi terrà con il fiato sospeso. Ricordatevi di rimanere sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sulla programmazione. Se siete interessati lasciate un mi piace ed iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!